C'è chi come De Canio l'ha definita semplicemente una gara importantissima, c'è già chi parla di ultima spiaggia. Di certo Catania-Bologna per i tifosi deve essere la partita della svolta, la partita che può consentire alla squadra rossa-azzura di tornare a lottare prepotentemente per la salvezza. A proposito dei tifosi, sentiamoli nel contributo preparato per noi da Antonietta Ricciardello. Che si aspetta dalla partita di oggi? Una vittoria. Speriamo che il Catania possa fare finalmente una buona partita, un ottimo risultato, ce l'aspettiamo tutti. E dobbiamo vincere per forza. Speriamo che vinciamo, che questa è una salvezza per noi. Cosa mi aspetto? Che vinciamo, io non lo amo tutta questa cosa, magari per Gucchi. Vincere, assolutamente vincere. Lodi? Lodi? Non so, quanto sono anche io? Lodi, basta che non sono fracchiato questo Lodi. Beh, Lodi ovviamente è un giocatore importante, è stato per l'anno passato, anche se penso che lui non possa essere l'unico in grado di far fare il salto di qualità vera a questa squadra. Lodi, speriamo che ci regala già da oggi qualche bella punizione. Applausi, se lo merita, soprattutto che è riuscito di nuovo qua a Catania. È stato sempre un giocatore importante per il Catania. Speriamo che fa bene di nuovo, ritorna a fare bene anche a lui. Lodi dunque, il protagonista più atteso, sarà il fulcro del 4-3-3 di De Canio, che ritrova dal primo minuto Bergessio, ritrova anche Spolli al centro della difesa e conferma Frison in porta. Per il Bologna invece mancherà Diamanti, squalificato. Al massimino la partita comincerà alle 15, arbitra Orsato. Per le immagini vi rimando al telegiornale delle 20 e 30 per interviste e commenti a Sala Stampa, che andrà in onda subito dopo i giorni della sera.